Un momento di gioia e di serenità per questi bimbi che comunque in prossimità delle feste pasquali sono comunque ricoverati verso l'ospedale di Pollo. Quindi come comunità montana abbiamo pensato di fare questo d'uno per far passare anche un nostro messaggio, un pensiero a questi bambini che anche gli organi politici sono vicino a questi bambini in un momento di grande difficoltà. Già di per sé vedere un bambino piccolo ricoverato in un ospedale è una cosa che fa molta tenerezza, vederlo in un particolare periodo pasquale sicuramente lo fa ancora di più. Sono dolcissimi, sono tenerissimi, per noi è stato un bel momento molto emozionante, questi forse sono gli unici atti in cui un amministratore effettivamente si rende conto del valore e dell'importanza di tanti bei gesti che devono essere fatti nella quotidianità. Io voglio ringraziare sia il dottore Soduto che il dottore Filippo che si sono messi a disposizione per farci vivere questo momento insieme ai bambini. Abbiamo augurato a loro una serena Pasqua sperando che possano guarire nel più breve tempo possibile. Io credo che in questo particolare periodo pasquale tutti noi dovremmo avere un attimo di riflessione perché noi portate dai nostri impegni quotidiani, tendiamo a tralasciare quelli che sono i veri valori della vita. Se noi ci fermassimo soprattutto in questo periodo dove i nostri impegni forse ce lo consentono e pensare a quelli che sono i veri valori della vita, forse ognuno di noi riuscirebbe a fare con un piccolo gesto un grande servizio alla collettività, un servizio di umanità soprattutto quando si tratta di bambini.